Movimento, Movimento, MOVIL! Così. Senza irrigidirti. Ancora un colpo di pettine. Avanti, tocca a te. Meravigliosa. Un portamento regale. Un successo favoloso. Sono solamente una ventina di passi. Pochi secondi durante i quali bisogna colpire, fare invaghire, strappare una decisione, imporre un prodotto. Due giorni fa Francoforte ha presentato 50 modelli al mattino e 40 al pomeriggio. 90 passerelle. Oggi poteva prendersi un po' di riposo e invece ancora 20 modelli e un fotografo tiranno. Ma come fai? Dopo una giornata così massacrante ad essere sempre fresca e sorridente, cosa c'è sotto? Sotto sotto c'è MOVIL. Certo. E poi quel buon massaggio sulla pelle quando ti muovi. Per muoversi in libertà, per muoversi in salute, ci vuole MOVIL, che invece di assorbire l'umidità la trasmette all'esterno e mantiene il corpo sempre asciutto alla giusta temperatura. Ecco perché anche le tutine dopo un pomeriggio di giochi sono asciutte, asciuttissime e per tante nanne serene, pigiamini MOVIL. Prodotti Polymer, Montecatini Edison.